salve a tutte e tutti sanremo 2024 molti mi hanno chiesto di parlare di sanremo 2024 già dall'anno scorso per esempio agosto settembre già ne andavano parlando dopo il sanremo 2023 allora sì no sì poi ho fatto altri video volevo iniziare a parlare da metà dell'anno scorso di sanremo e poi ho detto no c'è delle cose da fare e niente e adesso mi sono deciso a toccare questo argomento spero che le persone che hanno fatto richiesta di parlare di sanremo adesso mi diano un super grazie perché parlerò di sanremo finalmente comunque adesso do da mangiare al gatto e mi avvio a parlare di sanremo e mi raccomando nel trascorso di questa live anzi di questa premier non mi corrego neanche di questa premier nella chat partecipate con super chat e stickers così mi appoggiate nella produzione di altri video e se parteciperete con super chat e stickers mi potrete consigliare un nuovo argomento del quale parlare allora vi lascio al proseguimento nella visione di questa premier consigliandovi di partecipare di partecipare con super chat e super stickers e poi di condividere questa premier finché ancora e premier ma anche dopo quando sarà video compartite questa premia e compratevi un super grazie e adesso continuiamo con la con la premier finiamo questa pausa pubblicitaria ecco che dopo da mangiare il gatto eccolo qua il micino e stanco e stanco è stato tutta la notte fuori caffettuoso che caffettuoso che diamogli da mangiare gli diamo un misto di crocchette non so perché mia madre viene compromisto forse perché le altre le sta finendo e quindi ha comprato una confezione nuova bisogna sempre fare così quando si finisce una confezione mettere un misto delle due e poi c'è anche una bustina di umido nel caso in cui voglia mangiare ancora vediamo un po di dargli mi si è ingrassata la mano di questo cibo che a lui piace guarda come magna vediamo se si firma dopo vedrò se si è firmato devo fare così se andremo di qua se andremo di là se andremo di su se andremo di giù io poi sto registrando con una tarjeta micro sd da 32 gigabyte che a volte cellulare l'accetta a volte non l'accetta con un occhio ascia 302 perché non utilizzo gli altri cellulari su non lo so forse perché questo è più comodo da leggere in mano perché lo tengo in verticale e firma in orizzontale anche se in 640 per 480 risoluzione 480 per 480 risoluzione 480 per 280 risoluzione fattord ogni truck Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.